Ciao a tutti ragazze 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 si giusto bentornati sul mio canale come prima cosa vi ricordo subito se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale cliccando il tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite che vi aspetto anche su instagram ma come al solito sotto nell'info box troverete tutti i link di riferimento per quanto riguarda i miei social quindi vi aspetto anche lì video in collaborazione con le mie amiche con mary del canale vaniglia chic e sara del canale il mondo di sara e troverete sotto nell'info box anche loro link quindi mi raccomando passate anche dalle mie amiche io mando un bacione ad entrambi è sempre un piacere collaborare con voi e questo è il video sui nostri top detersivi low cost e quindi vi faremo vedere un po di detersivi che abbiamo scoperto in questo periodo alcuni sono scoperte un po di detersivi delle scoperte del periodo super low cost e quindi che possono che costano poco ma comunque che hanno un altissima qualità siccome io per ora ho dieci prodotti poi ne ho tanti altri che sto testando e magari se vi piace questo tipo di video ve lo faccio più avanti con quegli altri che sto provando in questo periodo adesso vi mostro queste cosine allora come prima cosa vi voglio mostrare questo che è dell'idol del marchio quello dell'idol e questo è il vetri multiuso io l'avevo comprato poi non so perché non avevo smesso di utilizzarlo e invece buonissimo cioè ci ho pulito i vetri anche ieri in tutta casa ha piovuto e non fa cioè se tu li pulisci e poi magari il giorno dopo piove come capita spesso durante questo periodo non lasciano aloni cioè il bagnato scivola via non rimangono gli aloni sui vetri quindi davvero fantastico per questo poi ovviamente se piove una settimana di fila ci trovi perché non hai che fai miracoli purtroppo però in questo caso puliti ieri sono rimasti abbastanza puliti quindi non lascia aloni e si asciuga in fretta anche un gradevole profumo e quindi mi sta piacendo un sacco è un litro e quindi costa pochissimo ma dura tantissimo veramente perché essendo un litro e dura davvero molto a meno che c'hai una villa a tre piani che allora se piano dei vetri allora quel punto può essere magari sicuramente finisce prima casa mia è un buco è piccolina e quindi di conseguenza dura davvero tanto e poi io i vetri li faccio una volta a settimana sempre poi dipende se piove a volte li faccio anche di più perché ho io un problema proprio con le pulizie sono psicopatica e quindi mi danno fastidio i vetri sporchi e quindi li pulisco abbastanza in fretta una volta a settimana durano poi a volte ogni tanto unì come c'è da qualche manata li ripasso al volo con questo si fa davvero in fretta e quindi è davvero un ottimo prodotto non mi ricordo il prezzo perché l'avevo preso un po di tempo fa e però comunque non penso che costa più di 5 euro assolutamente quindi questo è davvero molto buono ve lo consiglio poi altro prodotto che sto amando alla follia è questo dexal e questo è lo spray mousse con candeggina per la casa e bucati bianchi quindi questo è un prodotto che può essere utilizzato anche non solo per la cucina ma anche per i capi ma è fantastico sgrassa in una maniera pazzesca elimina muffa elimina io ho pulito la cappa in un secondo veramente senza fatica sgrassa perfettamente anche un buon odore di candeggina che a me fa proprio pulito l'odore di candeggina e quindi vi aiuta a rimuovere tutto ho pulito anche i muri cioè fantastica veramente e quindi rimuove tutto è un prodotto che si può utilizzare per mille cose e l'ho trovato spesso sta in offerta io l'ho pagato 99 centesimi da euro spin ma comunque costa un euro e qualcosa è 750 ml l'unica pecca è che mi si è rovinato un po lo spruzzino nel senso che quando spruzzi rimane indietro quindi poi lo devi spostare in avanti masticazzi cioè scusate parolaccia masticavoli e visto l'efficacia che ha comunque sia per come sgrassa e il profumo che ha va più che bene il costo è bassissimo io mi sono innamorata dei prodotti dexal ne ho altri che ho comprato e che devo testare ancora e quindi magari se mi piacciono ne parlerò la prossima volta spero che non siano dei flop ma fino adesso mi sono innamorata veramente di questo marchio fantastico prodotti di altissima qualità a un piccolo prezzo quindi meravigliosi questo ve lo consiglio ragazzi e prendetelo perché è una bomba veramente sui panni non l'ho mai provato perché ho quello là proprio lo smacchiatore per i panni sempre della dexal che amo ve l'ho parlato mille volte per questo non lo faccio vedere ma quello è fantastico però se mi capita lo voglio provare anche per quello poi altro prodotto sempre dexal è questo è il brillamobili con cera d'api è ideale per il legno è fantastico ha un profumo di cera d'api meraviglioso e aiuta a non far tornare la polvere sui mobili e lì cioè è delicato sui mobili di legno quindi davvero ottimo anche questo costerà un euro 1 euro e 69 niente proprio e è buonissimo anche questo è bello grande sono 400 ml di prodotto quindi anche una buona durata mi trovo davvero benissimo questo prodotto li lascia belli lucidi e sembra proprio che abbiamo passato la cera sui mobili di legno belli profumati senza graffiarli e soprattutto aiuta con la polvere a non farla formare quindi è davvero fantastico anche questo ve lo consiglio altro prodotto dexal ce ne sono tantissimi ragazzi è l'ammorbidente cioè buonissimo ecco nonno beraldo e questo è il profumo di frutti rossi e rosa indiana ma ne ho anche altri tipi che devo ancora provare perché ovviamente sto affinando questo che è grandissimo questa un litro e mezzo è super concentrato ha una profumazione meravigliosa lascia i capi morbidi anche questo sono per 60 lavaggi quindi deve avere una durata davvero pazzesca profuma tantissimo i capi che rimane proprio a lungo questo profumo meraviglioso i lascia super morbidi e soprattutto costa poco perché un euro e qualcosa sempre o al massimo due euro niente di più è fantastico e adesso in questo periodo mi vanno in promozione anche quelli piccolini super concentrati e a 75 centesimi infatti ne ho presi due e li testerò e vi farò sapere ma questo profumo è meraviglioso cioè troppo buono veramente mamma mia ti viene quasi voglia di berlo e quanto è buono proprio di fiori fantastico per questo periodo lo trovo davvero indicato quindi vi consiglio di provare anche i loro ammorbidenti che sono fantastici veramente troppo buoni allora altro prodotto d'exal sono le tazze per la pastoviglie questo è il profumo di limone sono davvero molto buone non lasciano residui lasciano i piatti belli belli luminosi belli brillanti belli puliti e soprattutto hanno proprio il profumo del sapone per i piatti al limone quindi è davvero fantastico ci stanno piacendo un sacco poi in più sono 40 taz costano mi sembra 2 euro e 99 sono tutte sigillate in questa bustina sono di quelle rigide non quelle morbidose diciamo e sono fantastiche anche queste infatti da quando le abbiamo provate abbiamo provato anche quelle dell'idol anche quelle non sono male ma queste sono mille volte più buone costano poco durano tantissimo perché sono 40 tazze e agiscono davvero bene sui piatti quindi lasciano belli puliti e lucenti e con questo profumo di limone che per me è fantastico quindi davvero ottime super promosse infatti le prendiamo sempre perché davvero un prezzo così basso non si trovano mai le tazze per la pastoviglie e quindi anche questo è un prodotto che vi consiglio perché davvero fantastico troppo troppo buone poi d'exal mi sembra finiti due prodotti che invece trovate da acqua e sapone e sono della pulisvelte costano una cavolata e anche questo è per i mobili quindi pulisce e protegge il legno anche questo con cera d'api e aiuta a non formare la la polvere e lucida i mobili anche questo un gradevole profumo questo costa un euro e 50 e questo è per i tappeti invece io con questo ci pulisco i tappeti è possibile utilizzarlo per tappeti mobili imbottiti moquette e è semplicissimo da utilizzare costa un euro e 69 quindi meno di quello là di l'omino bianco che veniva 3 70 ma comunque pulisce perfettamente anche questo si agita bene si spruzza sopra il tappeto e lascia questa schiuma io poi passo con una spazzola che ho comprato dai cinesi per appunto per i tappeti lo passo su tutti i tappeti li pulisce e non c'è bisogno di farli asciugare perché non li lascia abbagnati insomma e quindi è davvero istantaneo e toglie anche gli agari la polvere davvero ottimo un euro e 69 da acqua e sapone e che io lascio a più quindi davvero fantastici anche questi di questa linea che trovate da acqua e sapone poi ne ho preso uno ma per me sono tutta la linea di questi prodotti meravigliosi sono quelli della bio form blues ve l'ho detto ve l'ho cantata decantati mille mille volte nei video perché sono davvero fantastici ho il disinfettante per la lavatrice lo spray disinfettante per tutte le superfici e sono davvero fantastici questo profumo meraviglioso disinfetta pulisce bene quindi ottimi e hanno un prezzo bassissimo questi si trovano da ticotà e mi hanno detto anche da ushan se non sbaglio non ricordo una ragazza mi ha detto così non sbaglio anche da ushan io li trovo anche da risparmio casa insomma si trovano un po ovunque e sono davvero ottimi l'ho visti mi sembra anche dai cinesi se non sbaglio quindi un ottimo prodotto che dovete assolutamente provare perché è fantastico per la casa poi un altro prodotto che sto amando alla follia 18 lavaggi è della home circus che questa è una linea molto molto economica che hanno da ticotà e al detersivo per la lavatrice formula enzimatica con ossigeno attivo e è anche per colori brillante quindi agisce già nelle basse temperature io faccio quasi sempre la lavatrice a 30 gradi ma comunque si scioglie non lascia residui sopra i capi a un profumo meraviglioso mamma mia troppo buono il profumo veramente questo prodotto l'ho pagato 99 centesimi da ticotà mi sembra che era in offerta ma comunque costa 2 euro massimo quindi sempre poco e ne basta davvero poco perché io mi sono tenuta del prodotto lezzecchiello quello la della dexel che ho ricomprato perché anche quello è buono questo e quindi prendo uno e uno e mezzo a seconda di quanti panni ho da lavare e lo metto nel cestello insieme ai panni fantastico cioè davvero meraviglioso quindi se avete ticotà non so se lo vende soltanto ticotà un circus però se magari riuscite a trovarlo vi consiglio di prenderlo perché davvero buono dura tanto e ha un fumo meraviglioso agisce alle basse temperature su capi bianchi colorati meglio di così ma che vogliamo davvero ottimo anche questo poi ultimo prodottino è questo che è dell'airflor è un deodorante per ambienti e questo l'ho pagato sempre 99 centesimi dai cinesini sotto casa adesso non so magari se si trova anche in altri store dai cinesi ce l'hanno sicuro perché io l'ho preso là e questo in pratica neutralizza gli odori e profuma l'aria io l'ho scelto aria di mare ha un profumo fantastico veramente sembra di stare su una spiaggia la mattina presto questa profumazione fresca buona meravigliosa che ogni tanto mi piace spruzzare per casa rimane abbastanza a lungo e non dà fastidio perché non è troppo forte Diego di solito io amo gli incensi la sera li accendo lui li odia mentre quando spruzzo questo non dice niente perché davvero molto delicata ma comunque rimane nell'aria da questa sensazione di freschezza che ci piace molto quindi davvero buoni voglio sicuramente come finisce provare a prendere qualche altra fragranza di questa linea perché mi sta piacendo davvero molto quindi questa davvero molto buona poi per ultimo per ultima cosa non è proprio un prodotto ma si utilizza comunque per pulire volevo ve lo volevo mostrare eccolo qua questo qua è il panno assorbente multiuso multicolor che è fantastico io lo uso da anni per la cucina e per il bagno e in pratica quando lo apri sembra umido già l'unica pecca di questi è che io uso quasi sempre produttivo la candeggina quindi scolorisce perde il colore diventa bianco però sti cavoli l'efficacia gli resta dura lungo e quindi io lo uso per pulire il piano cottura dopo che ho passato con la spugna per risciacquarlo utilizzo questo lo lascia bello lucido risciacqua in fretta anche le mattonelle quindi è davvero fantastico e costa 50 centesimi questo davvero lo trovate sia sia per quanto riguarda al negozio dei cinesini ma anche risparmio casa negozi per casalighi lo trovate sicuramente vi faccio vedere magari anche da vicino così lo potete prendere è fantastico meraviglioso veramente non lascia loni risciacqua in fretta e è davvero fantastico io ormai non ne posso più fare a meno mi faccio sempre scorta perché poi 50 centesimi e niente e ne compro sempre un paio da tenere sotto al mobile del lavello appunto per quando perché dopo un po magari si rovina si rimane macchiato e quindi a me mi dà fastidio di cambio e è una bomba fantastico quindi me ne volevo parlare perché è davvero un ottimo prodottino per la cura della nostra casa quindi questi erano i miei top low cost per quanto riguarda i detersivi e sono tutti prodotti che sto utilizzando e che sto amando alla follia mi raccomando passate a vedere anche il video di mary e di sara vi lascio i link sotto nell'info box andiamo a vedere i loro top low cost di questo periodo vediamo se magari c'è qualcuno dei prodotti che vi ho mostrato anche io io come al solito le ringrazio grazie ragazze è sempre un piacere collaborare con voi vi ringrazio anche voi grazie perché siete davvero carinissime e vi mando un bacione grande e se vi va ci vediamo la prossima volta ciao 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 ciao